il giorno è stato fatto il giorno è stato fatto e per aver seguito che è andata bene nooo nico di me perdo per farlo Non è andata qui! Quando la giornata ti va troppo bene e ti dubbi a pensare a cosa ti potrebbe andare male con l'homer ti fa... Non sei mossa di un millimetro! Oh my goodness! Allora in seconda posizione, intanto con il 104 abbiamo Fanec in terza posizione. Ecco di lancia! E non si vede mai! Non si potenzia mai spesso! Non si potenzia mai spesso! Non si potenzia mai spesso! Quindi andiamo a vedere chi ci va alle loro spalle, che si sta portando in quarta posizione! Non si potenzia mai spesso! Vecchio! 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 Il passaggio per Mercier da Martia Madera La posizione dell'Europa in quinta poi Cobras, Vanasten, Timo Pader e Straubingona Ma il tempo è eccezionale di Mercier ed è 42.45 Il passaggio di Mercier è in questo final in fronte di Milano Varieck fantastico confermento per il 5e Milano Varieck Massaggio in terza e la quinta è in giro con Axel Tenier il 5e Il passaggio in fila indiana a giocarsi la seconda e anche la sesta tutti i vicini si allarga adesso è assolutamente Tenier che va a perdere alle posizioni pericolantissimo Rema Cobras all'interno Rema Cobras all'interno va a passare, passa in quinta posizione Tenier in sesta Fantastic performance per Vincent Mercier è andata via per la prima volta l'Europa questo anno il miglior tempo si stanno avvicinando perché pare che Mercier abbia un leggero problema sulla ruota anteriore lo vedo lo vedo magari si però non si vede così nettamente dobbiamo vederlo Aller s'il vous plait croisez le doigt per Vincent Mercier se ci siete la ruota è finita e per se vedete un poco ti fa risultare nooo 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 e andiamo tanto per dire a dedicare l'ultima tornata quindi è a Cardiopalma è tremenda come finale eccolo qua con la ruota anteriore che va e viene va e va e va e va e va la ruota anteriore la ruota anteriore la ruota anteriore l'ultima Aller Vincent all'interno il pubblico francese croisez le doigt tapatez le doigt il è telespectatore il è morto 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 Aller facciamoci Vincent Mercier è arrivata spesso in vai 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 attivano una macchina Grazie.